resciutti quindici a sette si inventa una mezza Beduina, Beffarda per Fontanì guardate che gol si inventa Nicolas guardate la Beduina leggera, morbida si inventa la Beduina a cucchiaio lo dedico al Panda, Lorenzo che è stato buttato fuori all'inizio lui la prova sempre in allenamento allora se lo meritava l'ho fatto per lui